La PA ha bisogno dei giovani, ha bisogno dei giovani per cambiare. I giovani sono una fonte di grande stimolo per riprogettare le procedure e per creare dei servizi veramente a misura di cittadino. Abbiamo avuto l'occasione di un incontro dei giovani con il ministro Zangrillo e abbiamo avuto l'opportunità di ascoltarli e soprattutto di cogliere quelle che sono le loro opinioni ma anche le loro volontà di rendersi partecipi di questo progetto di cambiamento. Abbiamo bisogno dei nativi digitali per cambiare questa pubblica amministrazione e solo affiancandoli con la grande esperienza dei funzionari attualmente in servizio riusciamo a creare quel matching di competenze vincenti che creano i presupposti di una nuova pubblica amministrazione più digitale, più veloce, più vicina ai cittadini e soprattutto in grado di parlare e di ascoltare i giovani.